Sono 18.797 i nuovi casi di persone positive al Covid-19 in tutta Italia, di cui 779 in Sicilia, in base all'ultimo bollettino rilasciato dal Ministero della Salute. Andando ad analizzare i dati della provincia di Caltanissetta, si registrano 23 nuovi positivi al virus SARS-CoV-2. Tutti i pazienti sono in isolamento domiciliare. Nel dettaglio 8 sono di Caltanissetta, 6 di Gela, 5 di San Cataldo, 1 di Mussomeli, 1 di Niscemi, 1 di Santa Caterina Villarmosa e 1 di Vallelunga Pratameno. Ricoverato in dergenza ordinaria un paziente di Gela, mentre un paziente di San Cataldo è stato dimesso dalla stessa dergenza ordinaria. 15 le persone guarite dal Covid nelle ultime 24 ore, 7 sono di Caltanissetta, 6 di Gela, 1 di Butera e 1 di Mussomeli.